La truffa al cioccolato che ha coinvolto Perugina WhatsApp, la truffa al cioccolato che ha coinvolto Perugina Da qualche giorno, infatti, sull'app si stanno diffondendo messaggi che invitano a cliccare il link di una falsa promozione da parte proprio di Perugina che, precisa, non centra niente con quanto sta accadendo. . L'ingannevole messaggio che si riceve su WhatsApp invita gli utenti a festeggiare il compleanno dell'azienda che, per l'occasione, distribuirebbe gratuitamente 10.000 confezioni di cioccolatini. . Il destinatario viene poi invitato a cliccare su un link contenuto nel testo che indirizza un sito falso del marchio. Qualora doveste ricevere messaggi di questo genere segnalateceli, ha scritto su Facebook la polizia di Stato. . . Dunque, è il caso di non abbassare mai la guardia e di non fidarsi delle promozioni che girano sui social. La truffa, anche se in questo caso addolcita dal sapore di cioccolato, è sempre dietro l'angolo. .